Bene, salve. Allora eccoci qui, una serata importante per la città di Roma, per la moda. Questa amministrazione intende valorizzare l'artigianato, la sartoria, l'alta sartoria italiana e Roma è la culla della moda, per cui stiamo lavorando nella direzione di rivitalizzare un settore che nella città di Roma vede la sua naturale sede. Siamo molto contenti di essere qui. Grazie. 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 Grazie.